Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con la nostra serie delle sette scene, i nostri gamberetti Allora ragazzoli, prima di partire dal video vi ricordo sempre, anzi vi ringrazio sempre per i like, per i commenti e per i suggerimenti che lascerete Per il supporto che state dando e che darete a questa serie, che dico vi sta appassionando, mi fa piacere E di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Facebook che su Instagram, di più su Instagram, lo sottolino sempre Comunque il link è in descrizione e se volete supportare il canale con delle piccole donazioni trovate anche il link in descrizione per effettuarle Detto questo partiamo con il video Ok ragazzoli, allora, organizzazione, calma e sangue freddo, iniziamo con gli allenamenti Giustamente nei commenti mi avete detto di mettere ad allenare quelli nuovi che diventeranno forti Allora io direi, Naga lo teniamo, il nostro uomo coreano, giapponese, dal pizzetto, il nostro zorro lo teniamo Perché ci serve un attaccante e sta starendo bene Hamilton mi serve per la difesa e lo teniamo Morris sta crescendo bene Casadette, per ora io direi di levare Morris Facciamo levare Morris a 67, raga Dopodiché mettiamo anche il nostro esterno Allora Casadette è diventato un 62, buono E il nostro Naga ha un 62, buono, buono, buono Può già dar concorrenza Agli nostri due attaccanti storici Dei gamberetti Non stiamo seguendo i piani O che volete O dell'obiettivo di far crescere il capito Per il profilo economico Zio non te li posso darvi 10 milioni di euro O ma che sta a dire Dai, e dai Cosa che so, un mago che gli faccio spuntarsi i soldi Siamo una squadretta Raggiunti i 16 anni di finale Attualmente l'eliminazione diretta Perfetta Abbiamo fallito l'obiettivo della FA Cup E neanche lo sapevo Gli altri ce li abbiamo tutti già fatti Paticamente a parte termina a metà classifica E il guadagno dei soldi Che non ci riusciremo mai a farlo Quindi siamo usciti dall'FA Cup Non me lo ricordavo completamente Andiamo avanti i segni miei Siamo arrivati al 21 febbraio 2021 Questa stagione non riusciremo a raggiungere i playoff Raga, però se riusciamo a costruire una bella squadretta Per l'anno prossimo Forse l'anno prossimo riusciamo a raggiungere l'obiettivo Magari non la promozione diretta Però secondo me un playoff l'anno prossimo Potremmo anche riuscire a raggiungerlo Allora, vediamo un attimino qui come siamo messi in difesa Stoccon e Morris Ok, perché comunque Naga ancora è un 62 Non è pronto Sullivan Wilding, Raid Nicholson Lindsay Hamilton Howard, Rage e McKinley Perfetto Tutti con 60 Se non sbaglio Noi il nostro centrocampista Sono un attimo confuso Ci portiamo a casa dei Al posto di tutte E poi E poi E poi A centrocampo chi abbiamo? Ah, Mariani che è rotto Ecco chi mi mancava Non abbiamo un centrocampista di ricambio Ottimo, ottimo Tranne tutte Che vabbè Tutte Tutte, tutte, tutte Ce lo portiamo al posto di Letty Schmidt Ancora ne vuoi? Dai Giochiamo così Giochiamo così Dai, raga Dobbiamo iniziare a fare qualche punticino importante Abbiamo una signora squadra Abbiamo una signora squadra Dobbiamo riuscire a fare qualche punticino importante Ci abbiamo contro il Doncaster Che è sotto di noi E è una partita in meno Quindi dobbiamo vincerla per forza, raga Vengono da una sconfitta contro il Wicomb Che ci fanno noi? Forza Camberetti 1-1 Gol di Stockholm Ok L'abbiamo ripresa noi al settantesimo È uscito il raid per far entrare Tonev Va bene, dai Dai Abbiamo preso un gol La difesa ancora Non tiene come dovrebbe tenere, raga Non tiene come dovrebbe tenere Bulu vuole essere venduto Va bene Bulu Te ne andrai Non rompere le scatole Bulu mio Io voglio far salire Morris a 67 Abbiamo detto Dopodiché lo leviamo Hamilton diventa 62 Ok Ok Bravo Hamilton Bravo Hamilton La nostra difesa inizia a pigliare forma, raga La nostra difesa inizia a pigliare forma Dai così Bulu Va bene Bulu Sarai venduto Bulu mio Bulu mio Sarai venduto Sì, sì Era inevitabile Bulu mio Hai rotto l'ultimo Le Pelotas Amico mio Vediamo chi ci portano dagli aggiornamenti Aggiornamenti degli osservatori Uh, troppe mail Allora Nicky Nicky Che ci hai portato al Brasile Felipe Silveira 57 57-79 Silveira Mio Tenevo tornato Adesso è venuto Edson Reis 68-92 15 anni Questo non sembra male Teniamolo ancora Vabbè, pigliamolo Male che vado Lo mandiamo nuovamente a casa Poi abbiamo Gabriel Xavier 60-80 No, 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 no Non mi convinci Alex con 6 sao 75-94 Questo è un gran bel portiere Signori miei Questo è un gran bel portiere Mmm Ingaggiamolo Eagle Cardoso 58-80 Rifiutiamolo Va bene Poi abbiamo Rese conto Giovani e talenti disponibili Quindi Abbiamo finito Le ricerche in Irlanda Dobbiamo andare L'osservatore Da qualche altra parte Allora abbiamo Neil MacDonald No, no Vai a fare i panini Amico mio Jason Brinman Tutti i portieri Porca miseria Ma non posso Comprare tutti i portieri Porca miseria Brian Dohan 58-80 No Sean Callagher No E l'altro è Pierre MacDonald Il fratello di quello Te ne torni anche te A fare i panini No, no, no E Orei Orei Dal Giappone con furore Abbiamo Minoru Minoru Ishida No Sergiu Ishida Questo è il fratello Di quello di prima No Ehi 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 Murakami No Questo mi sa proprio di Okama No Niente Dal Giappone non è arrivato niente Col furore Signori me Allora Andiamo a vedere un attimino Il discorso degli osservatori Se non sbaglio Dovremmo averne uno Che è tornato a casa Osservatore disponibile Due stellette E due stellette Va bene Si Facciamo seguire l'osservatore Per quest'anno ci teniamo loro Raga Dove andiamo No dove andiamo Andiamo in Argentina Dai Dai Lo troviamo un argentino forte Dai è così Sei mesi Nove mesi Sparati tutto quanto Il mondo possibile Sei mesi Dai è così In Argentina Devi trovarmi il nuovo Messi Zio Il nuovo Messi Voglio vedere Qui qui che abbiamo Jason Breman Portiere 16 anni 78-94 Sean Cunningham 78-84 E un 41 Lui andrebbe allenato Davide Esposito 79-85 Edson Reis 68-92 Questo è un altro bel centrocampista Alex con Seisao E l'altro portiere E Edoardo Rossi Attaccante sinistra Raga Edoardo Rossi Che metodo fa di Edoardo Abbiamo troppi attaccanti Ciao Edoardo Potrei No invece sapete che facciamo Questo lo promuoviamo E l'anno grosso lo vendiamo Questo lo promuoviamo Tanto c'è a 16 anni Lo promuoviamo a fine stagione Così poi lo vendiamo l'anno grosso Non ho che farmene Non ho che fare Un attaccante sinistra Io non gli gioco con le ali Quindi Sarebbe sprecato Andiamo avanti Siamo a marzo Signori miei Ormai siamo a chiusura Del campionato Noi siamo quindicesimi Offerta per il trasferimento Di un bulo Va bene Vediamo di riuscire A portarci più soldi A casa possibile Lui vale Quanto vale un bulo mio? 300 Me ne offrono 330 Andiamola a trattare Vediamo se Papa Maullo Riesce A strappare Magari Un 380 Dai Papa Maullo Usa le tue doti Chi è questo simpaticone Rinnegoziamo l'offerta Dammi nel meno 400 Te la sparo alta Proprio te la sparo alta Perché un bulo Vale Vale C'ha 24 anni 330 con la clausola Al 4% Allora Contro offerta La clausola Te la tini per i tuoi giocatori Dopodiché Rinnegoziamo l'offerta Va bene 400 Non me li vuoi dare Me ne dai 380 Dai Dai così Vai Papa Maullo Eh dai Grande Papa Maullo Con le sue doti Li convince tutti Papa Maullo Buono 380 Interessante Arriveranno sempre L'anno prossimo Questi soldi Però ci servono Per fare Mercato L'anno prossimo Dai così Offerta del 300 Per il bulo 340 No Già accettato Quell'altra Non possiamo fare 70.000 70.000 Trattative Vediamo se accetta Se ne va Il prossimo E contro E fondamentale Mitchell Va bene Mitchell mio Andiamo a parlare Con Mitchell Così Gli diciamo Che giocherà E lui sta Tranquillo Calmo E sangue freddo Allora Stockholm Morrison O Sullivan Io direi di tenerlo Sì Wilding Red Nicholson Facciamo giocare Tone Per prima di Sarrabia Fuori Lindsay Dentro Mitchell Hamilton E Rai McKinley In bulou E incavolatissimo Ma non abbiamo Gioca Satton Dal posto di In bulou Visto che è incavolatissimo L'abbiamo venduto Se ne va Per la sua strada E Naga È un poco scontento Ma penso Per la posizione In classifica Penso che Naga Sia scontento Per la posizione In classifica Della squadra Dai così In casa Contro il Barton Dai che ci vinciamo Loro vengono A dare sconfitte Di fila Raga Giochiamo a casa nostra Che ci fiamo Ci vinciamo Bella così Gol di Raid E Morris E' uscito Hamilton Per l'in 6 Buono così Raga Un 2-1 Tanta roba Loro hanno trovato Il gol del 2-1 All'85 Meno male Che hanno trovato Il gol del pareggio Se no Finiva malissimo Bella così Bella così Mister Sono felice Sono anch'io contento Per te Chi è che parla Mister Sono felice Apprezza il tuo impegno Braxton Cosa vuoi Ho bisogno di giocare Più spesso Il tuo posto di squadra Nel risto E Mitchell Magnifica vittoria Ok Ottimo lavoro Va bene così Va bene così Andiamo a rifare ancora Gli allenamenti Allora se non sbaglio Aspettate Morris è salita 67 Perfetto Quindi leviamo Morris E andiamo a mettere Vediamo un attimo No no Non dovevamo levare Morris Signori mi dovevamo levare Chi dovevamo levare Morris Sì Morris Giusto Un attimo di rincredimento Rincredimento Allora Sullivan Nicholson Potrebbe salire ancora Nicole Potremmo allenare Nicholson Sulla sinistra Oppure vediamo Centro campista Raid Raid Rigenza 69 Qua sotto Qua sotto Qua sotto Qua sotto Dovremmo allenare uno di questi Se no difensore centrale Hamilton E lui lo stiamo allenando Terzini Raja Mitchell E l'Insei Alleniamo 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 Mitchell Raga Perché l'Insei Sto perfettamente Può diventare una bestia Però Dobbiamo allenare Quelli nostri Quelli nostri Dai così Dai così Dai raga Naga Salla 63 Naga si guadagna il posto Da titolare Nella prossima partita Raga È il secondo migliore attaccante Che abbiamo Quindi Si guadagna il posto Da titolare Da titolare Andiamo 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 Siamo sempre Quindicesimi Con una partita in più A 48 punti Non è una bellissima situazione Non è una bellissima situazione Allora Andiamo a vedere un attimo La rosa Allora Morris è titolare Perfetto Staccano fuori per Naga Andiamo Fiducia a Naga Osalli Vanno Vorrei far giocare Casa Dei Signori miei Wilding C'è qualcuno Che può sostituire Wilding No E qua Lascere tutto così Va bene No 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 Va bene così Va bene così Diamo un turno Anche a Casa Dei Di potersi esprimere Di potersi aggiare il campo Perché se no Poi mi si arrabbiano Contro il Coverty Siamo ospiti Signori Loro vengono dalla sconfitta Contro il Barsley Che c'è fama noi? Forza Camberetti Dai Dai 1 a 0 1 a 0 Goal di Morris All'undicesimo Partita presa e portata a casa Va bene così Va bene così Tantissima roba 1 a 0 Non è successo niente in questa partita Partita è spente Come si vuol dire Partita è spente Ecco Per me lo vedo Il titolo del video di oggi Partita è spente Però va bene così Tre punti che sono preziosissimi Tre punti che sono preziosissimi Andiamo a fare gli allenamenti Dagli così raga Dagli così Saliamo 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 Forza Hamilton si ferma a 63 Mannaggia Stava per raggiungere 63 Hamilton Dagli così Arriviamo alla prossima partita Guardiamo la classifica E ci fermiamo qui Raga Allora Ci abbiamo un po' di mail Però non leggo niente Così mi rimane tutto bello fresco Per il prossimo video Voglio semplicemente vedere un attimo La classifica Perché abbiamo Una partita in più Rispetto alla squadra che ci segue Noi siamo 14 Abbiamo una partita in più Rispetto al MK Donz E abbiamo 3 punti No 49 C'è un 2 punti di vantaggio Sull'MK Donz E invece Lackrington Che è sopra di noi A 55 C'ha 2 partite in meno Porca miseria Noi siamo a 51 punti La zona di processione A 29 Va bene Quindi diciamo che la salvezza L'abbiamo raggiunta La zona playoff È a 66 Quindi siamo fuori di Di 15 punti Siamo fuori di 15 punti Siamo 15 punti sotto Va bene ragazzi Ho detto questo Vi ringrazio per il like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto È data a questa serie Noi ci vediamo Sempre qua sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao 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 Ciao